Scopri la rivoluzione visiva ZEISS Smart Life Individual 3. Se le lenti fanno parte della tua vita, indipendentemente dal tipo, queste sono create per te. Monofocali, digitali, progressive. Perché sono speciali? Massima personalizzazione, calibrate con 12,5 milioni di dati di portatori di lenti, per un fit perfetto. Adattamento Flash, dimentica i tempi lunghi di adattamento. In 24 ore, saranno un tutt'uno con i tuoi occhi. Intelligenza artificiale, la tecnologia Intelligence Augmented Design di ZEISS fonde i tuoi dati con un universo di comportamenti visivi per anticipare le tue esigenze quotidiane. Il risultato? Vivi la libertà visiva. Con le ZEISS Smart Life Individual 3, la visione è potenziata del 29% rispetto alle lenti tradizionali. L'evoluzione della vista ti aspetta. Scopri le lenti ZEISS Smart Life Individual 3 e cambia il tuo modo di vedere il mondo.